Se non possiamo frenare, tanto vale accelerare. In sintesi è quanto propongono i consiglieri del gruppo del Partito Democratico della comunità montana Alto Tirreno, Appennino, Paolano, Salvatore Paolino e Francesco Papa. Un'interrogazione ed una mozione per chiedere di valutare e mettere ai voti in giunta l'immediata chiusura della comunità montana. Gli enti come i nostri, spiegano i consiglieri, sono da anni oggetto di disinteresse da parte dei governi centrali e soprattutto in Calabria è chiaro da oltre un anno il progetto di incorporare gli enti montani in un'unica agenzia regionale che comprenda Afor e Arsa. Il disegno di legge, oggi fermo in commissione, non permette di conoscere i tempi di approvazione ed in questa attesa l'attenzione dei consiglieri di minoranza si focalizza sulle spese per il personale e su quelle degli organi politici. Come già evidenziato mesi addietro da Paolino, le spese telefoniche o l'utilizzo di autovetture non sarebbero giustificabili alla luce di un ente che è stato praticamente svuotato dalle sue funzioni. Occorre dare esempi di responsabilità e di buona gestione della cosa pubblica e delle risposte concrete alle popolazioni che accusano la politica di sprechi inspiegabili ed incomprensibili. In un periodo caratterizzato dalle emergenze lavorative che sono esplose a Verbicaro e Grisolia, i dipendenti in organico presso le comunità montane opportunamente trasferiti e con indoto il proprio stipendio base potrebbero essere più produttivi presso i comuni sotto organico, tecnico e amministrativo. Questa l'ipotesi dei consiglieri di minoranza. Nessuna risposta ufficiale invece arriva dai vertici della comunità montana di Verbicaro che già in passato avevano espresso tutt'altro parere appoggiando la proposta dell'UNCEM. Una revisione delle funzioni dei presidi di montagna a cui attribuire competenze specifiche nell'ambito di un più ampio progetto di riforma. Ovviamente se ne riparlerà.